Research Infrastructures, i finanziamenti della Commissione Europea tramite Horizon 2020, è stato il tema di un interessante e seguito incontro promosso nei giorni scorsi dall'Università di Camerino in collaborazione con Apre, l'Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea. La giornata si è aperta con i saluti del Rettore Unicam Claudio Pettinari e della Delegata ai Finanziamenti della Ricerca tramite bandi competitivi internazionali Unicam, la professoressa Irene Ricci. Sono stati poi gli interventi del Dottor Daniele Gizzi, punto di contatto nazionale europeo Research Infrastructures, Apre del Dottor Massimo Cocco, coordinatore del progetto EPOS-ERIC e dell'Istituto Nazionale di Geologia e Vulcanologia. Le infrastrutture di ricerca che svolgono un ruolo sempre più importante nel progresso della conoscenza e della tecnologia sono risorse e servizi utilizzati dalla comunità di ricerca ed includono, ad esempio, le principali attrezzature scientifiche, le risorse basate sulla conoscenza come raccolte, archivi o dati scientifici e le infrastrutture come dati e sistemi informatici e reti di comunicazione.